Vincenzo Bono, si è svolto a trappeto la gara nazionale organizzata dalla Lega Navale, facciamo un primo bilancio, com'è andata? Sì, devo dire che è andata benissimo, per noi è la quinta edizione da 2008, l'abbiamo ripresa quest'anno del 2016, ripeto la quinta edizione, una gara che rientra in circuito nazionale, di nuoto in acqua libera e di fondo, devo dire ci sono stati atleti un paio di Trieste e un paio di Verona, la gara è stata riuscita alla grande, devo dire con molta collaborazione di quasi tutte le istituzioni, il Capitano di Porto, il Guardia Costiera, la Vedetta dei Carabinieri, abbiamo avuto un'assistenza generale di un po' di tutti, siamo stati partecipi, i partecipanti erano circa un centinaio, abbiamo dato servizio nel migliore dei modi con l'associazione Aquarius, che è stata in collaborazione con noi a organizzare questa manifestazione, devo dire che è riuscita benissimo. Ecco, ci saranno altre iniziative in programma? Sì, sì, a breve abbiamo una giornata della sicurezza a mare, giusto per sensibilizzare un po' la gente del comprensorio, in questo porticciolo, un po' diciamo questo riparo, visto che ci sono 150 di portici, stiamo cercando di sensibilizzare un po' la gente. Ecco, nella gara nazionale di nuoto, a quale edizione siamo arrivati e quante altre ce ne saranno? Questa è la quinta, il prossimo anno la rifaremo perché ormai il trappetto è diventata, diciamo, una tappa, devo dire, attiratura nazionale, che rientra, ripeto, nel campionato nazionale, quindi la quinta tappa per noi, sicuramente il prossimo anno si sarà la sesta. A chi è rivolta principalmente? È rivolta a tutti i ragazzi che sono iscritti alla FIN, alla Federazione Italiana di Nuoto, ovviamente nazionale, che possono partecipare all'evento. Allora, oggi siamo alla quinta edizione del trofeo Lecanavale Trappetto Martinico, mi fa piacere essere di nuovo qua perché l'ultima edizione è fatta nel luglio del 2007, quindi oggi riprendiamo questa bella tradizione. Gara nazionale di nuovo da Nacquilibre sulla distanza di 3,2 km, fa parte di un circuito nazionale FIN, circuito regionale FIN di mezzo fondo. Oggi un recordo di partecipanti perché 100 nuotatori alla partenza già è un numero che si vede nelle grandi manifestazioni. È la quarta tappa, perché già si sono disputate tre tappe fra Cornino, Palermo e Cefalù, quindi questa è la quarta tappa del circuito FIN, organizzata dalla Lega Navale Delegazione di Trappetto Martinico insieme all'Aquario su Nuoto di Trapene, che è la società FIN che organizza tecnicamente la manifestazione. È stata una bellissima esperienza, molto ben organizzata, molto ben spiegata, al contrario di altre gare di mezzo fondo che abbiamo fatto. Certo, poi l'acqua è stata bellissima, oggi ci ha favorito anche una bellissima giornata. All'inizio non c'era neanche il sole, quindi si stava bene in acqua, non si vedevano le boe bene, non ci abbagliava, quindi è andata bene, è andata bene. Siamo fatti la gara tutti e tre insieme? Sì, appunto, ci siamo persi un secondo dopo il giro e la seconda boa, è l'ultimo tratto, ci siamo fermati e il gruppo si è ricompattato e poi noi tre siamo riusciti poi a staccarli. No, veramente è stata una bella esperienza, veramente per tutti, una bella giornata di sport, niente, ci siamo divertiti e alla prossima. Io faccio un antagonistico, faccio gare ormai da anni, e da 14 anni, quando avevo 4 anni che sono in piscina. Le gare di fondo mi sono andato dall'anno scorso, ho cominciato l'anno scorso con una gara di 2 km a Catania, alla playa, e poi, niente, ora sto provando qualche distanza più lunga, oggi 3,2 km, vedremo di farne qualcuna ancora più lunga. A poco a poco.